Ciao ragazzi e benvenuti! Oggi seconda parte del video dedicato agli acquisti potteriani fatti a Londra durante il mio ultimo viaggio. Qualora vi foste persi la prima parte, naturalmente la trovate nelle schede. Prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti presenti e futuri. Il codice è sempre valido. Questa maglietta, ad esempio, l'ho acquistata sul loro store, ma sono presenti tantissimi altri fandom. Detto questo, ragazzi, parliamo di Mina Lima. Il negozio si trova nella zona di Covent Garden, esattamente al 26 di Greek Street a Londra. E' esattamente alle spalle del teatro dove va in scena La Maledizione delle Rete. Ci sono passato davanti, mi sono fatto una foto, ma non mi è passato neanche per l'anticamera del cervello di andare a vedere lo spettacolo, perché servirebbe un giorno intero e tanti, tantissimi soldi, quindi magari in futuro. Cosa ho acquistato in questo negozio? Devo dire non tantissimo. Ero partito col presupposto di acquistare le repliche dei sei libri di testo di Harry Potter, che sono stati rilasciati qualche mese fa. Avevo davvero delle aspettative altissime, costavano 85 euro tutti in blocco. Volevo acquistarli, ma una volta presi tra le mani, sono rimasto molto molto deluso. Ero convinto che la trama della copertina esterna simulasse il tessuto, fosse leggermente imbottita, avesse una stampa comunque di un certo spessore, visto il prezzo di 85 euro per i sei quaderni. Alla fine erano sei quaderni, perché dentro avevano le pagine bianche a righe. Invece, arrivato lì, li ho presi tra le mani, erano dei quaderni di cartone. Quaderni di cartone che possiamo tranquillamente trovare a 1 euro, 2 euro nei supermercati. Però la stampa era quella delle copertine dei libri. Io sinceramente non ho reputato giusto chiedere 85 euro per questi quaderni, e quindi li ho lasciati sullo scaffale. Fatemi sapere se li avete, se li avete già acquistati, cosa ne pensate, se li avete visti, perché io sono rimasto davvero molto deluso. Li ho visti tante volte su Instagram fotografati, ma dal vivo devo dire che non rendono come in foto. Detto questo, ragazzi, sono entrato dentro il negozio. È molto molto piccolo, si tratta di quattro piani, ma davvero minuscoli. Lo shop è praticamente solo al piano terra, e poi c'è una mostra di tutte le stampe che è possibile acquistare all'interno del negozio. Piccola nota negativa, ragazzi. Noi abbiamo chiesto la gentilezza alla cassiera a piano terra di lasciare il passeggino del bambino che era con noi in un angolo del negozio, così da permetterci di salire negli altri piani, visto che le scale erano strettissime e non c'era nessuna via d'accesso per passeggino, o peggio ancora, per sedia a rotelle. Anche perché il negozio ha un gradino già all'ingresso, e quindi, in ogni caso, chi magari fosse portatore di handicap non può neanche accedere al negozio. Questa cosa l'ho trovata davvero, davvero brutta. Ma, detto questo, ci è stato detto di no, quindi abbiamo fatto otturni per salire su e vedere gli altri piani. Devo dire che l'esperienza non è stata il massimo. Però, detto questo, i prezzi naturalmente molto molto alti, ma ho acquistato comunque qualcosa. E ho trovato lì, esposta in una mensola, una copia della sceneggiatura di Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald. E voi, naturalmente, mi direte, ebbè, esti c***o... Eh sì, ragazzi, lo so, questa la trovo anche su Amazon, la trovo anche in italiano, io non l'avevo presa in nessuna delle due lingue, perché il film non mi era proprio piaciuto, però, alla fine, arrivato lì, ho preso questa copia esposta su una mensola, la apro, ed ecco che noto che all'interno è autografato da Eduardo Lima e da Ninfadora Mina. Quindi, ero contentissimo di aver trovato questa copia, avevo il dubbio che fosse un autografo stampato, invece poi ne ho trovata qualche altra copia in negozio e le firme erano tutte differenti, quindi erano autografati a mano. Voi vi direte, voi vi chiederete, perché questo libro ha queste autografie, e perché è così importante? Perché la copertina è stata disegnata da Mina Lima. Quindi, ero davvero molto molto contento di aver trovato una copia autografata da loro. Quindi, ho fatto questo primo acquisto per 16 sterline, se non ricordo male, sì, intorno alle 16 sterline, 16,99, quindi circa 19 euro per questo libro, che naturalmente su Amazon si trova scontato, ma non è autografato da Mina Lima. E poi, ho acquistato tre cartoline che mi sono molto molto piaciute, e si tratta di tre cartoline olografiche. La prima è questa qui, con il poster di Wanted, di Sidious Black, con la sua foto animata qui davanti. Questa costa 5 sterline, quindi circa 5,60 euro, 5,70 euro, sono tantissimi soldi per una cartolina, però alla fine volevo prendere qualcosa, e quindi l'ho acquistata, ed ho preso anche questa qui, con il poster di Bellatrix, che invece è più lungo, e poi anche quello dell'indesiderabile numero 1. Era presente anche quello con l'indesiderabile numero 2, se non sbaglio, 3, non ricordo, quello con Ermione, e poi due o tre pagine della Gazzetta del Profeta, una con Silente, una con Rita Skeeter, però acquistarle tutte era impossibile, e quindi ho preso queste tre, che comunque, secondo me, sono tra le più iconiche, e che vorrei incorniciare, e magari appendere qui in camera, o posizionare sulla scrivania. Ragazzi, questi sono gli unici acquisti, che ho fatto da Mina Lima, poi il resto era davvero tutto fuori portata, tutto troppo, troppo caro, capisco tutto, capisco il lavoro che c'è dietro, capisco la fama di Harry Potter, e la loro fama, però anche un po' meno, anche i prezzi leggermente più bassi, una calamita, davvero molto molto basilare, costava 5-6 euro, quindi, anche no, non facciamoci fregare, sì la passione, sì la collezione, però con criterio. Bene ragazzi, detto questo, anche il piccolo video, con gli acquisti di Mina Lima, è concluso, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se voi ci siete stati, cosa avete acquistato, e cosa magari non ho visto, e che avrei potuto prendere, fatemi sapere tutto nei commenti, qualora il video vi fosse piaciuto, commentate, condividete, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, qualora non foste ancora iscritti, detto questo ragazzi, io vi do appuntamento, a prestissimo, con tante altre novità, ciao!